Ricorderete sicuramente Je suis Charlie, perché in tanti forse l'avete scritto con un hashtag davanti come bandiera della libertà d'espressione ai tempi dei tragici fatti di Parigi che tutti conosciamo. Io ero Charlie invece è il titolo dell'ultima fatica del libro del professore Marco Rioles che è qui con noi questa mattina. Buongiorno e grazie per essere venuto a trovarci che proprio con il titolo spiega tutto. Io ero Charlie perché è come recita il sottotitolo monologo dall'oltre tomba del direttore di Charlie Hebdo per parlare di libertà di espressione anche. Cosa ci puoi dire di più su questo libro? Come è nato? Perché questa scelta di raccontarlo come una voglia di parlare da parte dello stesso Charlie Hebdo? Ma io ho deciso di riportare in vita Stéphane Charbonnier, perito il 7 gennaio 2015 sotto i colpi dei Kalashnikov, dei fratelli di Kuwashi, perché raccontasse la battaglia del suo giornale in difesa della libertà di espressione contro la censura di chi non voleva che appunto il suo giornale pubblicasse le vignette sull'Islam. Una scelta che come sapete ha pagato con 12 morti e il bilancio dell'attentato del 7 gennaio a Parigi. Nel libro c'è una difesa appassionata della libertà di espressione contro qualsiasi obiettivo perché la satira deve essere senza limiti, senza confini, altrimenti si pone il problema di chi è che deve delimitare i confini di libertà di espressione. Nella democrazia uno dei capisaldi è proprio questo, che si deve parlare e criticare qualunque, qualsiasi cosa. Charlie Hebdo era in prima linea per difendere questo principio contro chi all'interno del mondo islamico si riteneva immune dalla critica e dalla satira. Ripeto, hanno pagato con la morte, una morte direi tragica, questa scelta coerente fino all'ultimo. Sembrerebbe quasi facile difendere la libertà di espressione perché a volte sembra che basti un hashtag, ma abbiamo realizzato proprio poco tempo fa come invece non lo sia per niente perché quando sei toccato direttamente, e l'hanno dimostrato appunto le vignette che hanno raccontato il terremoto, quale ricorre appunto un mese oggi, tutti contro in quel caso. Prima erano tutti Charlie, poi non più. Perché? Perché sembrerebbe banale, perché quando sei toccato è più difficile, ma è molto difficile difendere la libertà di espressione in realtà? Certo, quando si è il target, l'obiettivo della satira è molto più difficile affermare che la libertà di espressione è un principio universale. Di fatto però Charlie Hebdo è stato coerente con la sua linea, con la sua filosofia di attaccare qualsiasi cosa, di prendere di mira qualsiasi cosa. Quelle vignette, seppur appunto sono state definite di cattivo gusto, quelle vignette rientrano in uno stile che è inconfondibile, che è appunto quello di Charlie Hebdo. Quindi lei quando le ha viste le ha accettate, diciamo? Ma non mi sono stupito. Al professor Rioles vorrei, come dire, proporre una sorta di riflessione sulla quale credo tra l'altro lui da più volte è tornato. Cioè il fatto che, a parte la circostanza che nel momento in cui ammettiamo che la satira possa essere soggetta a qualche limitazione accensura, non è più satira. Nel senso che la satira è intrinsecamente avulsa da qualsiasi logica di controllo. Ma soprattutto è emerso abbastanza, credo di rompente, una sostanziale divisione del modo di vedere tra la cultura occidentale, che è permeata insomma di valori quali appunto la libertà di informazione, eccetera, e invece sicuramente l'ala più conservatrice, più retriva del mondo islamico. E' una dicotomia, è uno scontro destinato a essere irrisolvibile o è solo questione di tempo? A tale riguardo cosa ne pensa? Ma per il momento è irrisolubile, nel senso che siamo di fronte a uno scontro diretto tra chi appunto in occidente ritiene che la satira sia senza limiti e non possa mantenere zone di immunità e invece c'è la sensibilità, definiamola così, del mondo islamico che vorrebbe essere lasciata in pace, vorrebbe che i propri simboli non fossero presi di mira. Charlie Hebdo aveva colto questa dicotomia e si era impuntato, aveva fatto proprio una questione di principio, l'idea che l'islam non potesse essere immune, soprattutto perché ormai l'islam è una parte dell'Occidente, abbiamo una minoranza consistente di musulmani in Occidente, allora l'idea che una fetta di popolazione fosse esentata dalla libertà di espressione era qualcosa che non poteva essere accettato e per questo sono state fatte diverse vignette proprio per sollecitare i musulmani ad accettare di essere come gli altri. Il rischio che si cada nell'autocensura per non urtare certe sensibilità è reale, secondo lei? Certo, questo è un altro dei motivi per cui Charlie Hebdo faceva le vignette, perché ci sono molte persone che si autocensurano, che per una questione di correttezza politica o di timore, addirittura di paura, di reazioni violente, non tratta certi argomenti, in particolare le questioni che hanno a che fare col Corano o con l'islam. Anche questo è un pericolo per la democrazia, perché non è possibile che ci siano zone franche. In democrazia si deve discutere liberamente, apertamente, francamente di qualsiasi cosa. La satira è sicuramente uno degli strumenti, è stato uno strumento politico in questo senso, anche per smascherare alcune verità, ma le chiedo, in un mondo dove comunque per la potenza dei media tutto è molto amplificato, tutto può venire letto e divulgato e amplificato da tutti in una maniera veramente planetaria e quindi anche con conseguenti rischi, davvero non c'è nessun limite per la satira? Leggero, il buon gusto, rispetto, satira deve essere assolutamente libera? Questo è uno dei problemi del mondo contemporaneo, per esempio le vignette di Charlie Hebdo sarebbero rimaste anonime, nel senso che Charlie Hebdo è una piccola testata letta da poche decine di migliaia e di persone. È ovvio che è stata amplificata dalla ripresa da parte dei principali media internazionali, le vignette che faceva. Di qui sorge spontaneo il dubbio, ma forse di fronte a una visibilità così ampia, mondiale, globale, che raggiunge anche direttamente i paesi islamici, forse sarebbe il caso di darsi dei limiti. Però anche qui la questione dei limiti è delicata, si arriva facilmente a un pendio scivoloso, chi è che pone i limiti della libertà di espressione? Chi è che definisce cosa è possibile e cosa no? Secondo me è una questione che non può essere risolta se non con una piena accettazione della libertà assoluta e incondizionata. Perché poi tra l'altro, ricordiamocelo, un giornale satirico ha comunque su lettori, se fa della satira malfatta, alla fine perde il lettore e questo è il metro, tra virgolette, di giudizio. È impossibile immaginare che torni in auge la figura del censore che cancella la vignetta, che non va bene. Poi insomma, il limite appunto del buon gusto, eccetera, sono in realtà, credo io, delle regole che si dà lo stesso disegnatore, lo stesso autore della satira che comprende se una cosa può effettivamente graffiare come vorrebbe e in maniera intelligente oppure no. In questo caso troverà dei lettori attenti oppure no, insomma. Ma il discrimine è proprio quello, cioè se qualcosa non piace non la compri, se tu trovi che il tuo giornale satirico di riferimento fa delle vignette che non ti piacciono non lo compri più e questo è stato detto anche in un dibattito su questa emittente a ridosso dei fatti di Charlie Hebdo da parte di un ospite durante una trasmissione speciale. Non ti piacciono queste vignette, non compri Charlie Hebdo, lo ignori, fai finta che non esista. Perché in Italia non esiste uno Charlie Hebdo? Ma perché la Francia ha una tradizione libertina e corsara di lungo corso. Charlie Hebdo, per l'altro, è in buona compagnia, ci sono altre testate che si pongono su questo solco. La Francia è un paese molto particolare dove c'è un dibattito molto vivo e acceso e anche spietato. Diciamo che da noi resiste un po' il vernacoliere e io ricordo tanti anni orsono il cuore che era un giornale satirico che spesso ha scatenato polemiche abbastanza roventi, però poi effettivamente si tratta di un'esperienza che è... Più sporadica magari, con meno risonanza. È un'esperienza che è terminata in qualche tentativo di si vede che noi italiani non siamo più capaci di ridere. Qualche dettaglio ancora sul libro, poi lo leggeranno, ma è una storia che comincia ancora indietro, ancora nell'88, perché è una battaglia quella che è cominciata ancora ai tempi di Salman Rushdie. Si ripercorrono tutte queste etappe che coinvolgono ancora di Ana Fallaci, se non sbaglio. Certo. Charbonnier nel ritornare in vita ricorda che la battaglia in difesa della libertà di espressione non comincia con le vignette di Charlie Hebdo, ma comincia nel 1988 quando Salman Rushdie pubblica i versi satanici, che è un romanzo che parla di Islam e che è stato subito preso di mira dall'opinione pubblica islamica che ne pretendeva la rimozione dalle librerie e addirittura nel 14 febbraio 1989 ci fu la famosa fatua della Yatollah Khomeini che condannò a morte Salman Rushdie. Charbonnier decide proprio di raccontare questo episodio per ricordare che la battaglia è lunga e comprende anche episodi come la pubblicazione del libro di Oriana Fallaci, La rabbia e l'orgoglio che è stato portato subito in tribunale. Direi che Charbonnier nel libro trova repellente l'idea che un libro possa essere processato. Un libro può essere contestato, discusso nei fora della pubblica opinione ma non portato in tribunale, non può essere con Sigilli e Ceralacche che si affronta un dibattito su un tema di interesse pubblico. Altrimenti tanto vale tornare all'orogo dei libri che tra l'altro mi risulta che sia una pratica che forse sta tornando in auge in Turchia a proposito di deriva islamica. Purtroppo, purtroppo. Non lontana purtroppo né nel tempo, anzi nello spazio. Io e Ro Charlie, libro di Marco Oriole, se ne ha parlato oggi per capire meglio un capitolo importante della storia dell'Europa ma anche credo del mondo contemporaneo e credo che da quello che abbiamo visto appunto tutti ne avremo bisogno di capire qualcosa di più anche sulla libertà di espressione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci vediamo tra pochissimo.